Ad i piatti di Chef Nuzio Io stasera non rinunzio Patatine e baccalà La mia casa è questa qua Salve a tutti e ben ritrovati in questo venticinquesimo ed ultimo episodio di questa rubrica Basi per le ricette e trucche segreti Una rubrica che ci ha appassionati e istruiti su tantissime basi utili per le nostre ricette Ma questa rubrica verrà sostituita da una rubrica altrettanto bella Infatti nella prossima settimana ci sarà la rubrica intitolata I sapori d'Italia Un viaggio culinario attraverso tutte le regioni italiane Ma non essere triste per la fine di questa rubrica Sorridi Chef Nuzio ha fatto gli gnocchi Infatti questa epica rubrica si concluderà con una base tra le più belle e tradizionali della nostra cucina Andiamo a vedere come si preparano Cominciamo preparando la base per i classici gnocchi di patate Mettiamo una pentola con l'acqua sul fuoco E non appena bolle aggiungiamo le patate e lasciamole cuocere Il tempo di cottura dipende soprattutto dalla grandezza delle patate che abbiamo acquistato Controlliamo la cottura e soprattutto non facciamo cuocere le patate più del necessario Per evitare la retrogradazione degli amidi è importante sbucciare e schiacciare le patate mentre sono ancora calde Un modo per evitare incidenti è quello di coprirsi la mano con uno strofinaccio o una presina da forno puliti E sbucciare le patate con la punta di un coltello in questo modo Una volta sbucciate le nostre patate schiacciamole e poi lasciamole raffreddare completamente prima di continuare Ora che le patate sono fredde aggiungiamo l'uovo, il sale e piano piano anche la farina Impastiamo grossolanamente con le mani all'interno della ciotola Dopo polveriamo di farina una spianatoia su cui riverseremo l'impasto Continuiamo ad impastare ma mi raccomando non impastate eccessivamente Altrimenti si rischia ancora una volta la retrogradazione degli impasti Che farebbe diventare troppo appiccicoso e molliccio l'impasto stesso Quindi una volta creato una pagnotta d'impasto soffice e morbida possiamo iniziare a realizzare i nostri gnocchi Ripulito il piano di lavoro, spolveriamolo bene di farina Afferriamo un pezzettino di pasta grande come un mandarino o poco più E senza metterci alcuna forza lasciamolo rotolare tra la spianatoia e il palmo delle nostre mani Continuiamo fino ad ottenere un filone del diametro di circa un centimetro A questo punto tagliamo pezzetti anch'essi di circa un centimetro Ben che non sia essenziale realizzare le regature agli gnocchi Questo accorgimento farei in modo che il sugo con cui li prepareremo venga raccolto meglio E che esteticamente siano molto più belli Ci sono diversi modi e strumenti per fare le righe agli gnocchi Noi ne vedremo due con strumenti di uso comune Lo si può fare utilizzando una grattuccia Premiamo con il pollice o l'indice facendolo rotolare sulla grattuccia Per ottenere questo risultato Il secondo modo, il mio preferito, tra l'altro Si fa semplicemente facendo rotolare lo gnocco Questa volta su di una semplice forchetta In questo modo Gli gnocchi non dovrebbero mai riposare tanto Andrebbero fatti e cucinati in breve tempo Quindi evitiamo delle preparazioni troppo anticipate Alla fine del nostro duro lavoro Il risultato dovrebbe essere più o meno così Passiamo alla seconda ricetta che si basa anche sulla base degli gnocchi che abbiamo appena preparato Un tipo di gnocchi ripieni molto profumati e molto saporiti Gli gnocchi ripieni di gorgonzola Per realizzarli rispetto agli gnocchi precedenti Dobbiamo allungare un filone Però questa volta grande circa il doppio Quindi un paio di centimetri Tagliamo a pezzetti di un centimetro e mezzo o due E dopodiché con la punta dell'indice Schiacciamolo al centro per creare un solco In cui depositiamo poi il gorgonzola Richiudiamo l'estremità Arrotoliamo il tutto nelle mani in maniera molto delicata Passiamolo facendolo rotolare Facendo un po' di pressione attraverso la grattugia Ottenendo così questa forma non cilinea È un lavoro abbastanza semplice Ed il risultato è davvero bellissimamente E sicuramente rende questi gnocchi particolari ed originali Realizziamo adesso gli gnocchi ripieni di ragù e mozzarella Rispetto agli gnocchi ripieni di ragù e gonzola Questi gnocchi hanno un livello di difficoltà Leggermente più alto In quanto il ripieno è liquido E potrebbe comprometterne la chiusura Niente panico però Una volta realizzato il filone Tagliato i nostri pezzettini di due centimetri per due Schiacciamoli bene E mettiamo all'interno un goccino di ragù E un pezzettino piccolo di mozzarella Il trucco in effetti sta proprio nel dosare Delle piccolissime quantità di sugo e di mozzarella Guardando questo ripieno Non come un ripieno di per sé ma come un qualcosa di sfizioso All'interno degli gnocchi Se ci siamo regolati bene con la quantità Richiuderli risulterà abbastanza semplice Lo faremo con delicatezza Unendo le due estremità E facendolo rotolare sui palmi delle mani con delicatezza Ottenendo così poi dei grandi gnocchi ripieni e filanti davvero deliziosi Ecco qui un riassunto del trio di gnocchi Che abbiamo realizzato con le patate Gnocchi classici, gnocchi al gorgonzola E gnocchi ripieni di ragù e mozzarella Passiamo all'ultima preparazione di questa carrellata Gli gnocchi di zucca Il procedimento e la tecnica nella preparazione degli gnocchi di zucca È sostanzialmente identico alla preparazione degli gnocchi di patate Con la differenza però che la zucca va infornata e non bollita È che la consistenza di questo ingrediente è lontana, anni luce, dalla consistenza delle patate È una lavorazione quindi più difficile In quanto a differenza delle patate La zucca contiene molta più acqua e non ha amidi Se non quelli che aggiungeremo noi con la farina Ma andiamo per gradi La prima cosa che faremo sarà quella di tagliare, pulire e ridurre la zucca a pezzi Lasciamola con tutta la buccia e inforniamola Per 30-40 minuti in forno priscaldato a 200 gradi Una volta cotta, rimuovere la buccia sarà molto semplice Ottenuta così la polpa, schiacciamola bene con lo schiacciapatate Lasciamola raffreddare e quando fredda aggiungiamo l'uovo, il sale, la farina Impastiamo all'interno di una ciotola Poi versiamo l'impasto su una spianatoia E impastiamolo ancora per un po' ma il meno possibile Il mio consiglio, il trucco per evitare che l'impasto inevitabilmente si inumidisca troppo Diventando eccessivamente appiccicoso È quella di realizzare gli gnocchi in maniera tempestiva E di cuocerli il prima possibile Lavoriamo il nostro filone velocemente e tagliamo i nostri pezzi Ricordandoci di infarinare spesso il piano di lavoro Ed anche le vostre dita Una volta tagliati, premiamo con l'indice su di loro con delicatezza Per dargli una forma un po' concava E questo è il risultato in linea di massima Ecco a voi alcune idee di come poter cucinare gli gnocchi che abbiamo preparato Con dei sughi che ci calzano a pennello Cominciamo dai nostri gnocchi di zucca Prepareremo gnocchi di zucca, burro e salvia e parmigiano Poiché, secondo me, qualsiasi altro ingrediente ne altererebbe il delicato sapore Per farlo portiamo una pendola di acqua in ebollizione Versiamo una porzione di gnocchi alla volta, mi raccomando Non appena gli gnocchi saltano a galla Lasciamoli bollire ancora per un minuto Nel frattempo, in una padella abbiamo messo a scaldare del burro, della salvia In cui riverseremo gli gnocchi E questa fase è molto importante Perché far saltare un po' gli gnocchi nel burro caldo Gli darà quella particolare fragranza Che li rende unici e spettacolari Aggiustiamo tutto con una mangiata di parmigiano trattugiato Ed impiattiamo al centro di un piatto Decoriamo con qualche foglia di salvia Ed eccoli qua, colorati belli Ma soprattutto dal gusto che difficilmente il vostro palato dimenticherà Seconda idea, gnocchi e gorgonzola in crema di latte A questi gnocchi ripieni di gorgonzola L'unica cosa che manca è un po' di cremosità Ho ripiegato sul latte, anziché sulla panna Per dare appunto agli gnocchi Una volta bolliti e scolati all'interno della padella Il tempo di assorbire il latte Che nel frattempo si addenserà Rendendoli cremosi ed invitanti Prepararli è semplice Basterà mettere un pezzettino di burro all'interno di una padella Un po' di latte Un po' di pepe nero Sale E riversarci dentro i nostri gnocchi Che abbiamo lasciato bollire Aspettando un minuto dopo che sono saliti a galla Proseguiamo la cottura Fino a quando il latte automaticamente non si addenserà Se ce non dovesse accadere Niente panico Infariniamo un pezzettino di burro Aggiungiamolo per risolvere il problema Quando il latte è diventato cremoso e pellutato È arrivato il momento di impiattarli Disponiamoli disordinatamente al centro di un piatto Una spolverata di parmigiano Una macinatina di pepe nero Ed eccoli qua Un aspetto semplice Ma un gusto cremoso ed intenso Passiamo agli gnocchi classici I miei preferiti a dire la verità Li faremo in un sugo tradizionale di pomodoro e mozzarella e basilico Realizzarli estremamente semplice Riversiamo in una padella la passata di pomodoro Di cui potete trovare la ricetta Su come realizzarla qui in alto sulla scheda Aggiungiamo la mozzarella E lasciamola sciogliere nel sugo E nel frattempo I nostri gnocchi che abbiamo messo a bollire Sono saliti a galla E dopo un minuto Possiamo raccoglierli con l'aiuto di uno schermino E tuffarli letteralmente nel sugo di pomodoro e mozzarella Lasciamo cuocere affinché si insaporiscono E affinché la mozzarella non si sciolga perfettamente Integrandosi con gli gnocchi e con il sugo Tirandone su qualcuno con un cucciaio potete notare un delizioso filare A questo punto gli gnocchi sono pronti Andremo ad impiattare usando un piatto fondo Semplicemente impiattiamoli all'interno del piatto Decoriamo con una foglia di basilico E nulla di più Questi gnocchi sono deliziosi, sani, semplici, economici e genuini I piatti che piacciono a me Quarta ed ultima idea di questa deliziosa carrellata di piatti Gnocchi ripieni di ragù e mozzarella Per realizzarli utilizziamo un po' di ragù Che verseremo in una padella Per addolcire il suo sapore e renderlo più cremoso e delicato Aggiungiamo un po' di latte Versiamo i nostri gnocchi nell'acqua bollente E lasciamoli salire a galla Dopo un minuto raccogliamoli e tuffiamoli nel ragù Che nel frattempo ha integrato il latte Diventando così cremoso e delicato Un po' di parmigiano E lasciamoli saltare fino a quando il ragù Non si sia perfettamente ristretto Attaccandosi agli gnocchi A questo punto non ci resta che impiattare Li metteremo al centro di un piatto In maniera disordinata Mettiamo un po' di parmigiano, una macinatina di pepe Ed eccoli qua pronti dall'aspetto invitante Ma con una sorpresa all'interno Altrettanto invitante Infatti guardate come filano Quando l'italiano Per questo ultimo episodio di questa rubrica Basi per le ricette trucchi e segreti Siamo arrivati davvero alla fine Salutiamo questa grande rubrica che ci ha tenuto compagnia E insegnato tantissimi trucchi e segreti Ed altrettanto i basi per la cucina Rubrica che lascerà il posto ricordo Alla rubrica Sapori d'Italia Un viaggio culinario che ci farà conoscere Le nostre bellissime regioni italiane Attraverso le loro tradizioni in cucina Ciao belli Ad i piatti di Chef Nuzio Io stasera non rinunzio Patatine e baccalà Bella La mia casa è questa qua Fai Fai Far